Questa è un'attitudine, se così si può dire, che è dimostrata con i fatti dai componenti di queste organizzazioni criminali, cioè quella di voler dimostrare di essere capaci di tutto, nonostante i rischi che si possono ovviamente realizzare per l'incolumità pubblica. Quindi è come una sorta di marchio che connota questo tipo di attività delinquenziale. Era già agli arresti domiciliari per la folle sparatoria del luglio 2013 in piazza Partigiani d'Italia a Bitonto, quando insieme ad altre persone aveva ingaggiato un conflitto a fuoco, diventato tristemente famoso grazie alla registrazione di una telecamera di controllo. Ma il 25enne Francesco Amendolara, arrestato nel centro storico dagli agenti della squadra mobile della Questura di Bari e del commissariato di Bitonto, sarebbe anche l'esecutore materiale dell'omicidio di Emanuele Giampalmo, il 31enne ucciso in un agguato in via Antonio Planelli a Bitonto il 10 marzo del 2012. Secondo i risultati delle indagini, Amendolara, a bordo di una vettura guidata da un complice non ancora identificato, avrebbe affiancato la vittima e l'amico Michele Vitariello, rimasto ferito a un piede nell'incidente, sparando cinque colpi da distanza ravvicinata. I due ritenuti appartenenti al gruppo di Cataldo, costola dei Conte Cassano, sarebbero stati puniti per aver avviato l'attività di spaccio nel centro storico, zona in cui è egemo nel gruppo dei Cipriano. Il presunto assassino, oltre all'accusa di omicidio, dovrà rispondere dei reati di porto e detenzione di arma da fuoco e ricettazione aggravati dalle modalità mafiose. L'attenzione investigativa della Polizia di Stato, delle altre forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia, in un rapporto di grande sinergia con la DDA, ci consente di seguire attentamente l'evoluzione di questi clan, dove, come vi dicevo prima, ci sono equilibri instabili e per questo pericolosi sotto l'aspetto della percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Clan e egemoni che tentano di occupare aree magari dovute al fatto che sono stati arrestati soggetti, per cui sono equilibri instabili che devono essere costantemente eseguiti dal punto di vista investigativo e per questo la squadra mobile insieme al commissario del bidondo svolge un'attività particolarmente intensa ed efficace. Nessuna collaborazione ancora una volta da parte dei testimoni oculari dell'omicidio, un aspetto che il questore sottolinea, sollecitando i cittadini a fare segnalazioni, anche anonime, alle forze dell'ordine. Una segnalazione anche anonima ai centralini di soccorso pubblico ci può dare l'infa per costruire operazioni. La sicurezza partecipata è questa. I cittadini e i commercianti, gli imprenditori, devono avere fiducia nelle forze di polizia. Operazioni come queste dimostrano che siamo sul problema, per cui un'apertura di credito verso le forze di polizia, verso la polizia d'estate, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, ci deve essere ed è assolutamente motivata.